Sicurezza in pista all'aeroporto di Olbia, la sperimentazione con i droni, l'inviato Alessandro Testa. L'aeroporto di Olbia inaugura un nuovo futuro per la sicurezza dei voli. L'Enab sta svolgendo in questi giorni la prima sperimentazione in Europa dell'uso dei droni per il controllo a largo raggio dell'infrastruttura, dalla rete perimetrale alle luci che guidano gli aerei dai terminal verso la pista e viceversa, fino all'individuazione di corpi estranei trasportati dal vento, alla cui rimozione provvederà come sempre il personale di terra. Si tratta di controlli di routine, che in caso di esito positivo della sperimentazione potranno essere svolte più velocemente dal drone, che è un mezzo anche più ecologico, dato che utilizza una propulsione elettrica e non un motore a scoppio, come i veicoli in uso attualmente. Al momento il drone può volare solo in assenza di aerei in movimento, ma l'Enab punta in futuro a modificare il proprio regolamento aprendo la possibilità di voli contemporanei, purché sempre in sicurezza. La sperimentazione è partita da Olbia perché a novembre l'umono dei voli sullo scalo gallurese è esigua. È stato scelto soprattutto per una richiesta da parte del gestore per testare ovviamente le soluzioni, quelle che andiamo a proporre innovative e tecnologiche nella sperimentazione di quello che riguarda i droni, anche per la forte destabilizzazione dell'aeroporto. Difatti in inverno sicuramente c'è una quantità di voli notevolmente inferiori a quello che può essere l'estate. Le prossime sperimentazioni si terranno a Roma-Ciampino e Milano-Rinate nel mese di dicembre.